Allora ragazzi finalmente vi svelo questo pacco che grazie a Montrè che è uno shop online che vende prodotti di cura per la persona e per la casa con un ottimo rapporto qualità e prezzo, Montrè è una startup che ad oggi è il primo brand che seleziona da poter vendere nel loro negozio e appunto l'unico alta qualità. Allora faccio vedere che cosa mi ha inviato. Allora abbiamo innanzitutto l'assorbicolore, colori più brillanti, in pratica sono 16 fogli che si usano per ogni bucato per permettere di poter lavare più capi colorati insieme in modo tale da poter risparmiare quindi in un unico lavaggio poter lavare più capi assieme colorati. Allora poi abbiamo queste salviette monouso, biodegradabili e compostabili, sono 50 pezzi. Poi abbiamo questa cattura polvere in 3D, ha profumo muschio bianco, effetto magnetico, 30 pezzi. Poi abbiamo questo asciugamano multiuso, biodegradabile e compostabile, 16 pezzi. Quindi adatto anche per il campeggio, per la palestra, per il perrucchiere, anche per andare in viaggio. Quindi non bisogna portarsi appunto tantissimi asciugamani ma abbiamo questi multiuso quindi favolosi. Abbiamo questo assorbicolore, colore più brillanti, uguale però comunque il pacco doppio per la famiglia, 40 fogli. Quest'ora è di 16. Poi abbiamo i fogli profumati per l'asciugatrice con l'ammorbidente, ridone elasticità, stiratura facilitata. 36 fogli. Poi qui abbiamo asciuga intimo, salviette extra sorbenti, usa e getta nel wichit, 30 pezzi. Poi abbiamo queste salviette professionali, 25 pezzi, extra sorbente. Poi abbiamo queste salviette per capelli monouso professionali, 16 pezzi. Questi sono ideali proprio per chi si fa il colore a casa e non vuole sporcare appunto l'asciugamano. Quindi sono perfetti, tanto sono usa e getta. Poi abbiamo questo cattura polvere XXL effetto magnetico, 16 pezzi, quindi sono quelli più grandi. E questi comunque si possono mettere anche nello swiffer. Poi abbiamo questo di 30 pezzi al profumo di cera d'api. Quindi ci sono le varie misure. Poi abbiamo questo di qua, sempre cattura polvere in 3D, 36 pezzi. E infine abbiamo questo di qua che è sempre 30 pezzi cattura polvere, però questo ha un profumo di lavanda e camomilla. E' fantastico. Grazie ad unico a queste qualità, ma troverete appunto il tutto sia su Amazon che sul sito Montré.